Dottoressa Moon. Incantatrice. Vi presento l'incantatrice. Quello che sappiamo di lei è nella relazione davanti a voi. È su questa terra da molto tempo e probabilmente sarà ancora qui quando ci saremo istinti. Questa riunione è diventata uno spettacolo di magia. Magia o meno, questa ragazza sa fare cose incredibili. Prendi ciò che sai. Direttamente dalla camera blindata del Ministero della Difesa a Teheran. Diamo la caccia a questi progetti da anni. La prego, non mi tocchi. La prego, non mi tocchi. Rivolremo la dottoressa Moon. Grazie.